Il dato che noi dovremmo analizzare di più è perché ogni anno a Capodanno si segnavano di straordinario 1200 persone e ne rimanevano fuori 500 senza poterlo fare su 700 posti e perché quest'anno su 700 posti non ci sono state prenotazioni per fare lo straordinario. Non c'è stato nessuno che ha detto ai lavoratori, anche perché onestamente se io gli dico ai lavoratori non andate a fare lo straordinario con 1400 euro di stipendio ne perdono 250, detto fra noi non ci danno retta. E' stato proprio un atto spontaneo perché non sentono più che Clemente sia il loro comandante. Vengo se proprio sono obbligato ma se non sono obbligato a venire io con te non ho rapporto fiduciario. Il problema è come vengono interpretati i numeri, ci sono 571 malati, se noi li vediamo sui 1000, pure su questi 1000 c'è da discutere, sui 1000 presenti rappresentano una percentuale. Poi dopo se però andiamo a dire, e non l'ho detto io, l'ha detto il vice sindaco, che la media dei malati in questa stagione è il 6-7%, stiamo parlando di una percentuale che rispetto ai 571 rappresenta il 9%, cioè stiamo dicendo che è aumentato un 2%, quindi non è un 60% di malati ma diventa una percentuale lievemente maggiore. auspico veramente che il comune di Roma faccia qualche passo indietro o comunque cominci ad avere un atteggiamento nei confronti della polizia locale diverso da come è stato fino ad oggi. C'è un problema di contratto, guardi, noi lo diciamo anche in maniera chiara e questo va a prescindere dalla notte del 31. Con la forma contrattuale che è stata proposta andremo tutti sotto corte dei conti. Questa amministrazione comunale si è inventata una forma di produttività che premierà due volte il lavoratore per aver fatto il pomeriggio, per aver fatto la sera, per aver fatto la notte. Cioè si rischia di prendere due stipendi. Bellissimo, bellissimo. Però lo sa qual è il problema? Che a Firenze gli hanno richiesto i soldi tutti insieme, poi i lavoratori dopo due o tre anni c'è da rimuovere la frizione. La frizione è rotta, non c'è storia. Questa frizione si è rotta. Achille Serra, il prefetto Achille Serra, non l'avrebbe mai portata la situazione a queste condizioni.